OpenAI si è finalmente adeguata alle normative italiane, di conseguenza ha di nuovo reso pubblico l'accesso a ChatGPT, sarà quindi possibile raggiungerlo senza una VPN, il sito è tornato in chiaro. In sovrappressione trovate un video che vi spiega i vantaggi di avere una VPN, in ogni caso vi consiglio di visionarlo e valutare effettivamente un acquisto di una VPN perché vi rende la connessione sicura e garantisce una misura di sicurezza superiore per il vostro computer. Andiamo a vedere come compare ChatGPT quando andiamo ad accedere. Rispetto a prima vediamo che quando accediamo ci dà delle informazioni aggiuntive, ad esempio ci dice che loro vanno a raccogliere dei feedback, che le informazioni che vengono poi restituite dall'intelligenza artificiale potrebbero anche essere sbagliate, quindi non c'è più la certezza assoluta che le informazioni sono corrette quando va a rispondere. Dicono attenzione, fate attenzione a quello che andate a leggere dall'intelligenza artificiale. Poi se facciamo next, lui ci dice attenzione guarda che la conversazione vi rewired tu ai trainer, quindi può essere presa in considerazione per i trainer per andare ad allenare meglio il loro sistema, quindi avvisa l'utente che tutto quello che andiamo a scrivere può essere visionato e utilizzato per allenare l'intelligenza artificiale, quindi i dati vengono presi. Please don't share any sensitive information, quindi dicono anche di non condividere informazioni sensibili perché c'erano persone prima che magari non si rendevano conto e passavano anche account e password, magari anche aziendali o informazioni sensibili dell'azienda e quindi hanno dato queste ulteriori informazioni. Se facciamo next, questo sistema ottimizzato per il dialogo considera di avere risposte particolarmente buone per il tuo supporto. Condividi il tuo feedback, discover server se volete condividere il feedback. Facciamo edone e ecco adesso io vado semplicemente a, nei tre puntini così faccio clear all conversation perché queste sono tutte cose vecchie e ecco che posso tornare ad utilizzarlo. Ciao, ciao, come stai? Ecco che torna a funzionare in modo regolare. Vi ricordo che questa è la versione di 3.5 di CiaGPT, per accedere alla versione 4.0 dovrete fare l'upgrade al Plus, che costa circa 20 dollari al mese e vi dà accesso anticipato a tutte le nuove future. Più una risposta veloce e più il funzionamento di quando GPT è sotto sforzo, quindi quando è sotto sforzo comunque riuscirete ad utilizzarlo ugualmente. Al netto di questo, in questo tempo in cui è stato bloccato l'accesso a GPT, sono nate tantissime altre piattaforme. Nello specifico ve ne faccio vedere una che è molto completa, che è poe.com, quindi se andiamo qui su poe.com compare questa cosa qua e qui sulla sinistra trovate molte intelligenze artificiali che ci possono veramente tornare molto utili. Troviamo nello specifico GPT 4, quindi se vedete in basso a destra troviamo 1 left, significa che possiamo porre una domanda al giorno a GPT 4 e se provate a fare la stessa domanda a GPT 3.5, quindi dell'interfaccia che c'è di qua, oppure anche di qua perché alla fine lo troviamo anche qua e possiamo tranquillamente andare a parlarci, potremo quindi utilizzare GPT 4. Ma oltre a GPT 4 c'è anche un'altra intelligenza, Cloud Plus, io le ho provate molto in questo mese, mese e mezzo che GPT non era accessibile e Cloud Plus devo dire che risponde in modo molto simile a GPT 4, quindi posso dire, posso affermare che sono comparabili tra loro. Su Cloud Plus abbiamo il fattore aggiuntivo che possiamo andare ad utilizzare 3 domande, quindi possiamo inviare 3 testi. Per andare a sfruttare queste due tecnologie, quindi per provarle in modo gratuito scriviamo sempre tutta la domanda nei miei dettagli, quindi andiamo a scrivere la domanda, dammi la risposta così, così, ma se invece fosse così, se invece fosse colà, oppure se stiamo parlando di ambito tecnologico magari fare le formule, fammi la formula che funziona così, considera i dati che sono fatti in questo modo, in quell'altro, rispondemi in questo. Quindi facciamo una domanda veramente completa e poi premiamo invio, così lui comunque riuscirà a valutare tutto il contesto e ci darà una risposta. Ovviamente se poi dà la sua risposta e dobbiamo avere un'ulteriore domanda di approfondimento, con GPT 4 abbiamo solo una domanda, quindi dovremo aspettare un giorno. Con Cloud Plus è un po' più agevole perché comunque ne abbiamo 3, quindi possiamo andare in risposta 3 volte e questo ci aiuta veramente tanto. Qui appunto c'è GPT, ma a questo punto se andate a utilizzare la 3.5 vi consiglio ad andare qua e se la piattaforma non funziona, tornate di nuovo su PoE perché poi comunque questi sono i motori che si attaccano alle API e quindi non sono proprio come quella originale, sono un attimino differenti ma funzionano comunque benissimo. E vi devo dire che questi hanno sempre funzionato egregiamente in tutte le ore della giornata, quindi anche quando c'è magari tanta affluenza comunque funzionano. Gli altri, provateli, sei che sa che non so bene come si pronuncia, portate pazienza, Cloud Instant, Dragonfly e Neva AI sono altre intelligenze artificiali, sono molto meno performanti nel senso che danno risposte non complete come gli altri tool, però un vantaggio di questi altri motori è che sono meno protetti, ovvero sono più facilmente raggirabili. Cosa significa? Che se voi andate a porre una domanda a GPT, 4, 3.5 oppure a Cloud+, che magari chiede voglio vedere i siti di streaming, vi dice che per etica non ve li può fornire. Invece questi motori aggiuntivi riusciti in qualche modo a fare il raggiro delle protezioni che mettono, quindi se ci volete giocare per vedere un po' come funzionano, per vedere come reagisce l'intelligenza artificiale o se effettivamente state cercando informazioni un po' sensibili, eventualmente utilizzate queste altre tecnologie. Vi segnalo ancora un sito che ho già segnalato su un mio video che è Perplexity, così li avete visti tutti quelli che vado ad utilizzare, qua eventualmente se compare questa cosa fate sono effettivamente un umano. E' Perplexity.ai, anche questa è testuale, però a differenza di tutte le altre questa intelligenza artificiale si connette a internet. Quindi lei che cosa farà collegandosi ad internet? Andrà a fare una ricerca sui siti, basandosi sulla domanda che andrete a porgli e in base al contenuto che ci sarà all'interno dei siti andrà a rispondere alle vostre domande. Questa cosa è veramente molto interessante rispetto alle altre perché possiamo cercare anche argomenti di attualità. Facciamo un esempio giusto perché così vedete una cosa pratica, adesso c'è un tema molto attuale. Ho sentito parlare del 110 per le famiglie che porterà un assegno unico universale a 950 euro mese per figlio. Come funziona? Quindi è veramente molto di attualità. Andiamo a premere invio e lui ci dà una risposta. Vedete che vi dà appunto la risposta breve, poi ovviamente voi da sotto potete comunque continuare la conversazione, che questo è un altro plus che è come cagpt per così dire. Quindi sa quello che avete scritto sopra, sa quello che ha risposto e potete andare a continuare appunto la conversazione. La cosa più bella sono questi numeretti che vedete qua, quindi questa frase qua praticamente l'ha estratta dal sito numero 1 e dal sito numero 2. Quindi non è che estrae i blocchi di frasi e ve li riporta, comunque poi lui li interpreta e vi dà una risposta che voi possiate comprendere. Però compone il suo messaggio prendendo le informazioni da più siti, non solo da uno. E i numeretti sono i riporti e i numeretti che ci sono qua sotto. Quindi lui dice, ho letto da fisco tasse, informazione fiscale, ti consiglio, governo e cafacli. Se io adesso vengo qui e dico, perfetto, voglio vedere cosa hai letto dal sito 4, governo, che è anche un sito ufficiale, quindi è anche andato a fare una ricerca molto accurata dal mio punto di vista. Clicco ed entro nel sito del governo che va a spiegare appunto quello che riguarda questo tipo di normativa dell'assegno unico per le famiglie. Quindi posso poi andare ad approfondire elettoriamente anche andando a leggermi da solo il sito ufficiale che lui ha utilizzato. E poi ovviamente, ripeto, posso andare a continuare con la conversazione sotto. Per concludere, torno un attimo su POE perché ho dimenticato di dirvi una cosa importante. Se andiamo giù in basso, perché poi quando voi andate a scrivere su tutti questi motori ricerca, tutto quello che scrivete rimane memorizzato all'interno delle chat e non si cancella mai. A meno che non andiate qua tre puntini e fate delete, ma dovreste farlo messaggio per messaggio, diventa una cosa lunga. Quindi andate semplicemente in basso, andate su setting e nel momento in cui state su setting andate sempre in basso e premete su delete all message. Così tutti i messaggi che sono contenuti in tutte le chat di POE verranno cancellati automaticamente e completamente.